E ora la situazione sulla rete autostradale della nostra regione. Buongiorno ad Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sì, Mariangela, buongiorno. Flussi veicolari vivaci sulle strade della nostra regione per i consueti trasferimenti pendolari dovuti all'inizio delle attività lavorative. E si registrano code per i programmati lavori di manutenzione sulla 26, la Genova-Gravelona-Tocce per due chilometri tra Obade e Masone in entrambe le direzioni. Sulla 10 al momento si registrano code tra Varazze e Celle Ligure e vi informo che è chiuso lo svincolo di Imperia Este e quello di Urco-Fellino per lavori. Code si registrano anche sulla 12 per un chilometro tra Genova-Nerdi e Ricco in direzione Livorno. E sempre nel piano di ammodernamento di autostrada per l'Italia c'è una stima dei tempi di percorrenza molto superiore alla norma da Bollino Rosso in A10 in direzione Savona questa mattina sino alle 10. e sulla 12 in entrambe le direzioni e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 in direzione Genova e sulla 26 l'abbiamo visto stamani in direzione Gravellona e nel pomeriggio in entrambe le direzioni. Comunque per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.autostrade.it nella sezione dedicata alla regione Liguria. Grazie, restituisco la linea, buona giornata. Buona giornata anche a voi dalle autostrade ci spostiamo sul mare davanti a Camogli dove da secoli le reti vengono...